Amichevole ieri al comunale di Bucine tra gli arancio-verdi locali e la San Giovannese. Era la prima uscita dei ragazzi allenati da Vinerbi. La squadra è apparsa piuttosto imballata contro gli azzurri che di fatto, vincendo per 3-0, hanno centrato anche il primo successo di questo precampionato dopo gli stop contro la rappresentativa di Isoccupati ed il Sansepolcro al Buitoni. Buona prova dell'ex di turno assieme ai compagni Treghini, Berti e Vanni, Bettoni, che in porte ha limitato il passivo alle tre reti messe a segno da Jukic nel primo tempo e Bindi è colato nella ripresa. Molte per entrambe le squadre però le situazioni tattiche da evolvere con l'impiego del centravanti War in casa bucinese ed il 4-2-3-1 azzurro che vede nell'ex Pisa-Cerneso, ultimo arrivato, un buon talento come esterno offensivo anche a livello di velocità individuale ma con la necessità anche di essere tatticamente disciplinato. Intanto si avvicinano i primi impegni ufficiali per entrambe e le singole situazioni dunque vanno risolte e nella Sangio serve ancora quel metronomo di centrocampo auspicato sia da Iacobelli che da Del Grosso.